Il leader della Lega, sempre più contestato dai baroni del suo partito, è stato superato nei sondaggi da Fratelli d'Italia. Sembra un'eternità, ma sono passate meno di due anni. Sono passate solo poche settimane prima che la pandemia di Covid colpisse l'Italia e il resto del mondo occidentale. Matteo Salvini aspirava conquistare L. Emilia Romagna, la regione che il centrosinistra governa da mezzo secolo. Alla disperata ricerca di sondaggi che non prevedessero nulla di buono, il leader della Lega ha lanciato tutta la sua macchina propagandistica e ha recitato in una campagna elettorale porta a porta che gli si è rivoltata contro. Salvini si trovava in un quartiere degradato della periferia di Bologna quando, incoraggiato dai suoi collaboratori, ha chiamato al citofono di un cittadino tunisino, additato dai vicini come un presunto spacciatore per chiedere se spacciasse droga. Il cervello di quella controversa scena, che causò un conflitto diplomatico, fu Luca Morisi, ideatore della bestia, l'apparato di comunicazione e propaganda nei social network della Lega. Lo stesso indagato per aver fornito droga a due uomini rumeni con i quali, secondo i media italiani, avrebbe fatto sesso in cambio di denaro. E un attacco indegno, ha detto Salvini in difesa del suo collaboratore che la scorsa settimana ha lasciato il partito di estrema destra e tutte le sue posizioni. Luca Morisi è stato molto più del «guru e stratega» di Matteo Salvini, ancor prima che il politico milanese arrivasse al Ministero dell'Interno nel 2018. Il «megafono» del leader leghista, come definito sui suoi social, è responsabile in buona parte di la trasformazione di Salvini a leader della destra italiana. E per riuscirci non ha esitato a confondere i suoi rivali politici, ad attaccare chi criticava il capitano il soprannome e anche merito suo o a prendere di mirà gli immigrati arrivati sulle coste italiane. Molti ora ricordano le dichiarazioni dell'allora ministro su Stefano Cucchi, giovane tossico dipendente morto dopo essere stato picchiato dai carabinieri. «Questo dimostra che il farmaco fa male», ha detto, scagionando gli agenti, che sono stati condannati al carcere.